... procediamo a voto presenti 43 a tenuto l'articolo 1 ha trovato l'articolo 2 votiamo l'articolo 2 votiamo il presidente lei non può far finta di nulla l'articolo 2 non state fatte delle domande presidenze sono state fatte delle domande presidenze io esigo la risposta a me le domande non sulla parte lenta ma sul tema di me avrai tutte le risposte per scritto articolo 2 abbiamo ascoltato tutto articolo 2 votiamo abbiamo tutti presenti 42 votanti 42 favoremo 35 47 il consiglio approva adesso prima che il voto finale e c'era più di voto questa maggioranza non c'è più il fine questo non è la mia maggioranza questa non è la mia maggioranza presidente sono state fatte di domande delle risposte è incolpio è incolpio è incolpioso si comenta detto chiedere il presidente per la sua condizione è incolpio non posso parlare perché andiamo avanti però te avessi potuto avrei fatto un odo come lo do Grazie a tutti